finalmente morivo dalla voglia di vedere il sequel ciao ecco il mio biglietto fantastico e nelle caramelle certo che no bene entra goditi lo spettacolo che cos'è questa a qualcuno è caduta la bambola vai tra gli oggetti smarreti cos'è questo strano rumore sono confuso non può essere vero aiuto ne ho abbastanza io mi licenzio io me ne vado mi ha colto di sorpresa ma posso farcela facci entrare il film sta iniziando ehi tu a benvenuti godetevi il film finalmente grazie è colpa tua se abbiamo perso la guardia di sicurezza quindi ora sarai tu a occuparti della sicurezza e tieni d'occhio tutto buona fortuna mano ho bisogno di un assistente prepariamo il biglietto sono caramelle sono vietate sorridi una macchina fotografica ehi tu come osa sorridere posso entrare tieni questa invece dinamite no 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 il rumore sarà molto forte ho ancora molto da imparare come faccio a portare le caramelle di nascosto lo so le le caramelle di nascondo sotto la maglietta fatto questa è una follia schibidi dop 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 yes 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 dop 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 è ora? entra pure il mio biglietto schibidi dop 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 yes 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 dop dop mano prenditi cura di lui oh no tutto tranne quello aiuto qualcuno mi aiuti cosa? i miei dolcetti anche la mia maglietta preferita è rovinata non mi si inganna così facilmente braccio non deludermi ecco il biglietto vediamo dove sono le caramelle? ecco ti tesoro mio avete visto? oh sì sei stato bravo oh oh mi sono perso qualcosa posso entrare? mano conosci la procedura hai le scarpe slacciate? niente di grave se hai i lacci slacciati non puoi entrare come vuoi? li legherò farò del mio meglio con una mano sola è una bella sfida non ha funzionato faccio fatica ad allacciarle fin da piccolo ti aiuto io prendi questo non rifatelo a casa ben fatto ma non è come pensi non ti abbandonerai mai per un'altra mano è il mio giocattolo preferito vai vai barretta di cioccolato potrei farlo tutto il giorno oh ah divertente che cos'è? un ballo mi è venuta un'idea e il mio biglietto? mi ricorda qualcosa? l'ho fatto io bello goditi il film a tutto volume andiamo ballate con me oh no questa musica non riesco a trattenermi non è possibile devo finire prima questo io io lei è qui? ora posso entrare? mi godrò il film sì ha funzionato ho portato la cioccolata rinascosto e io ho portato il pan di zenzero da paura stupendo ci siamo quasi? sono vicino se ne pentirà delizioso che cos'è? libera aiuto fuoco ho cambiato idea sul film che bello sai? mi piacerebbe vederlo nessun massaggio può superare questo cosa devo fare con te? wow un'altra mercoledì già una è abbastanza che è? sono una tua fan ecco il biglietto un autografo per favore se non ti dispiace oh grazie niente abbracci goditi il film è una cosa da pazzi non mi piacciono i fan il mio piano ha funzionato cosa? che buono devo andare? posso farlo anch'io? oh no di nuovo? ehi ops mi è caduta una ciocca ecco il mio biglietto mano dov'è il tuo assistente? proprio qui al mio fianco sei serio? è ridicolo mano un taser oh no oh sì oh cavolo che brutto momento per far morire il telefono wow la batteria è completamente carica vai mio fedele cavallo ci siamo quasi siamo arrivati e i soldi? grazie per il tuo lavoro tieni il resto wow Nelly aspettami qui saluti miei fedeli sudditi e allora? sono il re ed ecco la mia spada aspetta un attimo ecco la mia spada è in guardia incredibile mi piace la scherma cosa? è in guardia ecco fatto ops la mia spada i miei pantaloni reali l'imperatore non ha i vestiti è stato facile non vedo l'ora di metterti alla prova oh no sono pesci quelli la gelatina è pronta spostati il mio biglietto che cos'è? il mio pesce? bene entra da leccarsi le dita come ha fatto a farlo? beh posso farlo anch'io ciao che cos'è? un acquario per i miei pesci anch'io ho un pesce è un piragna e ha fame oh no quello no bravo pesciolino ma ha mangiato tutto sono a corto di idee non c'è modo di intrupolare le caramelle già siamo nei guai il film è finito? tutti fuori il film è stato fantastico mi è piaciuto molto la mia bambola era qui oh no me ne ero dimenticata è ora di tornare indietro eccoti non perderti mai più dobbiamo tornare a casa cos'è questo? sicurezza evviva torno a lavorare e finalmente potrò andare al cinema la nuova guardia ti dà un caloroso benvenuto posso entrare? niente caramelle al cinema ok prendi questo voglio parlare con un responsabile ma che succede qui? max è la nostra severa guardia il biglietto puzza di zucchero dove nascondi le tue caramelle? da nessuna parte e se le trovassi? le troveremo amico aiuto nessuno può nascondersi da me ecco il mio biglietto bello e le caramelle? no certo cos'è quello? fuori è stata dura ma dov'è June? è il mio amore farei qualsiasi cosa per lei eccolo ehi allora puoi andare a vedere il film? cosa abbiamo qui? una rosa per la mia ragazza oh un appuntamento entra June guarda cosa ho qui è più di una rosa adoro le M&M's cosa? le hai mangiate tutte? di già ne voglio ancora ok scusami hai qualcosa di questo? ho qualcosa cosa? ma dove vai? questo è il mio negozio segreto che cosa vuoi? qui ci sono barrette e caramelle ecco qua grazie fermo lì la mia ragazza mi sta aspettando sneakers messima idea ehi cosa? le caramelle non possono entrare cosa faccio ora? non posso entrare senza caramelle calmati ecco a te i popcorn non sono quello che cerco voglio gli snack i popcorn sono una copertura capito? ti devo un favore stai contrabbandando qualcosa di illegale? no è solo popcorn ok entra pure finalmente finalmente cosa? io non voglio i popcorn non preoccuparti è solo un travestimento gli M&M's le adoro grazie ancora pancake perfetti sono in vendita a quei pancake no? e se triplicassi il prezzo? affare fatto niente cibo beh devo trovare il modo di nasconderli attenzione un biglietto sono il campione del mondo di frisbee posso entrare certo goditi il film che cosa è inutile oh un frisbee è la copertura perfetta per i pancake attenta June oh adoro i pancake ecco grazie cosa? ancora? va bene bruco affamato un'altra porzione l'ultimo santi carboidrati c'è qualche infrazione qui io non sono stato teo? sei il mio pancake preferito non posso continuare così ancora per molto che tipo strano va tutto bene sto bene santo cielo guarda che scarte goditi il film entra pure e tu alzati oh i miei dolcetti venite da me caramelle ehi siete così vicine vi mangio tutte io chi ha mangiato la mia scorta fantasmi del cinema dammi i popcorn ecco a te June ti ho fatto ricapitare una caramella con l'auto oh che bello c'è dell'altro? arriva subito June mi farai andare in fallimento ciao ecco il mio biglietto oh che belle trecce entra tesoro un nuovo ordine bene ci penso io fai buon viaggio sneakers qualcuno contrabbanda caramelle? me ne occupo subito ciao questa macchina è tua? dovrò sequestrarla oh che film stressante ho bisogno di caramelle per scaricare lo stress il mio ukulele mi aiuterà a portare le caramelle di nascosto oh adoro la musica mariachi arriva c'è del cibo? entra pure mi piace questa idea anch'io ho bisogno di una chitarra potresti inventarti qualcosa? assolutamente sì un'anguria non è quello che intendevo aspetta e vedrai bel colpo ecco il tuo banjo di anguria Teo che strumento dolce e non dimenticare il cappello amico arriva suoniamo insieme ups il mio strumento è stonato ups basta la vista baby che giornata lunga cos'è successo? June vuole altre caramelle sono così stanco poverino bevi un po' di soda ti sentirai meglio versane ancora e ancora e ancora ehi amico ma quanta Pepsi hai bevuto wow cos'hanno i tuoi occhi? what? aiuto non riesco a vedere so cosa fare ti servono le lenti giuste solo un minuto mia che succede? ecco le tue pupille teo fermo lì ecco qua ci vedo di nuovo altra Pepsi no sono a posto inseparabili l'amore è tutto intorno a me dov'è il mio ops June è così odiosa tutto ciò che vuole da me è cibo no ti ho preso teo stai bene? mia sei il mio vero amore il film è finito spero di rivederti grazie per favore andate via è rimasto qualcuno? me ne occupo io cosa? una pianta grane nel mio turno? bene sei in grossi guai no tu sei nei guai come hai potuto permettere che venissero contrabbandati così tanti dolci all'interno sei licenziato cosa? teo? non importa il cioccolato è ciò che amo veramente veramente